Cagnolino è quella cosa che può avere un gran valore, specie poi per le signore, perché è bispo e le cagliate. È la lingua quella cosa che si muove per parlare, ma da lor può capitare che si muova stando muti. Marinetti è quella cosa che facendo il futurista, ogni sera fa provvista di carciofi e di patate. Da baccaia è quella cosa che ti vende il franco pollo e per fare la graziosa te lo lecca per di niente. È l'uccello quella cosa che la gabbia ha sempre odiato, ma quando è addomesticato ci va dentro che è un piagliero. Petrolini è quella cosa che ti burla in ton garbato, poi ti dice ti ha piaciato, se ti offendi se ne frega.